la piove guarda è entrata la Robertina se cosa è entrata non ha fatto il suo giro, lo sta facendo la sua pirouette è partita è a lungo, forza Robertina è stata vincitata di tantissime tappe del campionato ha vinto anche tappe nazionali quindi se non ero ha cambiato la sella oggi, ha una sella diversa vediamo se gli porta bene la guardatura nuova ricordo il puro sangue arabo grande il cambio oggetto e adesso deve mirare bene e lo fa e allunga stende il suo puro sangue arabo l'ha chiamato un po' prima deve mettere diritto alla retromarcia no, un secondo grande maestria ha contenuto il posteriore vi occhio alla prima pallina non osate perché si può scivolare lì come poi è un grande intermedio finora più veloce non deve lasciare e porca paletta il grizzly il grizzly si sfuna soffia alza la polvere questi 5 secondi non ci volevano però veloce ha recuperato ai barili dai Robertina adesso è il momento di non lasciare niente al caso ottima la chiusura il dopo buono più veloce madonna santa 82-67 82 leader della classifica bravi gioia Roberto Antili su casa c'erano 5 da sommare quindi vanno 87-67 comunque prima madonna santa e la Rebecca queste due signorine dell'equitazione riescono a mettere dietro comunque sia tra i primi quattro posti Chiara Mattioli Rebecca Ruggeri e Attili Roberta quindi tre donne tre ragazzine tra i grandi fortuna il vescio Buccarelli Giuseppe che ci difende un po' la categoria uomini se no le donne fanno pulire adesso Roberta Pirouette come tu sai fare e champagne e gasose e parte la prova Roberto Antili terza classificata nel primo intanto ricomincia Eccatri a sputar non è niente grande passo laterale non è da commentare la velocità il tempo finora è buono sta concludendo il penultimo ostacolo adesso lo aspettiamo al canziano anche Michele Vitale in uno sguardo al tempo e lo può chiudere e poi saldati sicuramente leader della classifica Puggera 77-07 applausi li mette tutti dietro Robertina Attili da Osimo Marameo e adesso vita dura per Rebecca Rosini vita dura per Buccheralli Giuseppe Grande Robertina la principessa da Osimo percorso netto grazie a tutti Grazie.